Video dedicato a FIFA World Cup Brasil 2014 per Sega Master System Una hack di 94 Super World Cup Soccer Il gioco è praticamente identico, cambia qualche colore, cambia qualcosina Cambia la schermata del titolo Però il gioco è uguale Il video è molto breve e l'ho realizzato soltanto per mettervi a conoscenza dell'esistenza di questa hack Che a qualcuno può interessare La nota di colore è che in questa hack sono presenti due immagini di due donne nude Vi ringrazio per la visione In descrizione trovate il link per scaricarla Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione